Dopo il voto di fiducia al governo, perletta un percorso lineare e facile fino al 2015. Qual è la situazione politica secondo lei adesso? Il problema più che letta è il paese. Il problema è l'Italia che si sta scavando la fossa, ubbidendo a tutte le richieste folli di Bruxelles, non mettendo in discussione neanche una delle richieste folli dell'Unione Europea e poi qualcuno si stupisce se in piazza scendono i forconi. Dopo il voto di oggi i forconi dovrebbero entrare in Parlamento più che aspettarli fuori. Una dichiarazione molto forte. Molte forze politiche guardano con diffidenza il movimento, la protesta dei forconi. La protesta quando è non violenta è sempre la benvenuta, soprattutto a un Parlamento sordo. Oggi qua si è parlato senza ricordarsi del fatto che fuori da questo palazzo ci sono 5 milioni di poveri e 4 milioni di disoccupati. La legge di stabilità e la fiducia letta alla chiesta sul nulla, nuove tasse e molto poco lavoro. Quindi come Lega abbiamo perso la pazienza, quindi il no non sarà più solo dentro un palazzo ma sarà da domani anche fuori dal palazzo perché questa gente probabilmente non si rende conto che fuori da qua c'è gente che ha fame e che è molto arrabbiata. Quindi noi staremo con loro e non dentro. Quindi quali sono le proposte e i progetti, le mosse future della Lega? Ma ridiscutere l'Europa da cima a fondo, ricostruirla se serve abbandonando anche l'euro che si può e si deve mollare e quindi ripartire dal territorio, ripartire dall'indipendenza, a partire dal Veneto, ripartire dal lavoro e dalle tasse, cancellare le riforme fornero sulle pensioni e sul lavoro, cancellare alcuni enti inutili che non sono le province e i comuni ma sono le prefetture. Quindi alcune battaglie assolutamente concrete su cui sfidiamo l'ETTA che ha parlato a vuoto oggi per minuti e minuti ma non ha accennato minimamente al lavoro che è l'emergenza del Paese.